Vince e festeggia Libertas Maddaloni che nella finale contro il Valenzano si impone 11-7, confermando di meritare l'AC. Successo mai messo in discussione grazie ad una prova straordinaria di tutto il gruppo. Ai Pugliesi va l'onore delle armi, probabilmente De Bellis e i suoi sono stati traditi dall'emozione perché in meno di tre minuti sono riusciti a incassare quattro reti. Apre Alfonso Staraci di potenza raccogliendo un pallone rispinto dal palo. I Mondi trasforma un rigore, gran destro di Gigi Bove all'angolino. Il Master è frastornato, Russo non ha molto da fare e allora Palazzo in girata firma il poker. Reazione di orgoglio avversaria griffata da Trizio e Di Bello in controfuga. Nel secondo periodo il Galati non concretizza le palle gol create e le continue superiore da numeriche. L'unico a prenderci è Palazzo che a tu per tu con Carnevale non sbaglia. Si cambia campo ma a dominare sono sempre i casertani, difese e contropiede le loro armi preferite. Dopo un 5 metri di Staraci torna in cattedra Bove che mette al segno una doppietta intervallata da un rigore di Di Trizio. I due si continuano a rispondere a distanza di pochi secondi anche nell'ultima frazione. I Mondi si concede anche il lusso di fallire una massima punizione. Quindi Bove chiude i conti scatenando la festa sugli spalti. Maddaloni torna in C, sogna un impianto tutto suo e attende il derby con il Volturno. Di più di questi tempi proprio non si può chiedere.